Sono Michele Tribuzzi, zio Mike e ringrazio per la partecipazione al decimo Great Village Day. È stata un'esperienza molto bella contribuire con una attività importante, ovvero sia come conoscere il debitore, grazie a tutto uno studio della fisiognomica, della psicosomatica e della semiotica. Quando parlo di fisiognomica intendo il piano istintuale, emozionale e intellettuale. La semiotica è il linguaggio dei semi, quindi l'inconscio, e la psicosomatica è il corpo, che può essere tiroideo, quindi snello, può essere surrenale, grasso, può essere ipofisario, pesce pilota. Attraverso queste discipline noi possiamo individuare se il nostro debitore è una persona leale oppure scorretta, perché esistono dei macro messaggi per chi sa leggerli e quindi capire che tipo di relazione instaurare con questa persona.